Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez e nonna della piccola Luna Mari Spinalbese, ha condiviso sui social una serie di foto e video della festa di Halloween, che si è svolta il 31 ottobre 2024. L'evento è stata una vera celebrazione dello spirito di Halloween, curato nei minimi dettagli per offrire un'atmosfera magica e spettrale. Nonna Veronica ha voluto definire questa festa, come la più bella di sempre, una serata perfettamente decorata e pensata per grandi e piccoli. Tra gli ospiti principali c'era ovviamente Luna Mari, che ha partecipato all'evento con un costume da streghetta che ha incantato tutti. La piccola si è divertita tantissimo, gustando anche dei popcorn durante la serata. Al momento non è chiaro se fosse presente anche il fratellino Santiago, in quanto non compare nei video condivisi, ma molti fan credono che ci fosse anche mamma Belen, immortalata in alcuni scatti insieme a nonna Veronica. La serata è stata un'occasione speciale per la famiglia, che ha voluto condividere con i fan l'allegria e la spensieratezza di Halloween, mostrando ancora una volta l'affetto e l'unità che li contraddistingue. L'evento, tra costumi e decorazioni, ha regalato momenti di puro divertimento, dando alla piccola Luna Mari un ricordo speciale della festa più spaventosa dell'anno.